E' terminata con una dolce vittoria l'altalenante stagione del Città di Gela, un'annata in cui non sono mancate certamente le emozioni e che si è conclusa senza aver centrato però l'obiettivo dei play-off. Un risultato per tanto tempo alla portata della formazione bianco-azzurra, soprattutto nella prima fase del torneo, dove con la guida del tecnico Faustana ha frequentato le zone nobili della classifica. Illusione che con il trascorrere delle partite dei mesi è svanita dinnanzi a una realtà meno piacevole per il Gela, che nella seconda parte del torneo ha dovuto fare conti con delle difficoltà che hanno inevitabilmente rallentato il percorso della squadra, fino a portare all'esonero dello stesso Faustana, non in grado di invertire il trend negativo dopo un inizio di campionato sicuramente dei migliori. Alla fine la classifica ha visto il Gela sesto a soli due punti dall'ultima casella che conduce ai play-off, occupata dall'Oionica. Una seconda parte di torneo che lascia il rammarico del rimpianto di quello che è stato e che invece sarebbe potuto essere. Nell'ultima recita allo Stadio Presti, la squadra ha salutato il suo pubblico con l'esordio nella massima competizione regionale dell'attaccante classe 2008 Marco Ferrigno e il centrocampista 2007 Flavio Ferrigno. Entrambi gelessi sono l'ennesimo risultato del prezioso lavoro del vivaio bianco-azzurro, a cui certamente si guarderà nel prossimo futuro. Ora la sosta estiva, poi il pensiero sarà rivolto al campionato del prossimo anno, in cui il Gela si presenterà con l'intento di migliorare il sesto posto vidimato nell'ultima vittoria contro la Nebros.